Tutti prodotti di grande qualità, dalla pasta ai pelati, ai pomodori, al latte, biscotti, tonno. Ovviamente avvicinandosi la Pasqua non poteva mancare la colomba. Ovviamente non poteva mancare la colomba. I migliori prodotti agroalimentari dunque che per questa Pasqua avranno il sapore della solidarietà grazie all'iniziativa a sostegno di chi ha più bisogno, promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica. Coldiretti da sempre è vicina comunque a tutto quello che è il mondo e la società quindi ci sembrava in questo momento indispensabile continuare in quello che stiamo facendo ormai da un anno con l'aiuto a famiglie del territorio e aiuto anche alle aziende perché si stanno manifestando povertà impensabili fino a poco tempo fa. Cento i pacchi destinati alla provincia di Arezzo. Ad ogni famiglia il stato di bisogno, individuato assieme ai servizi sociali del comune, sarà consegnato un pacco da oltre 50 kg di prodotti 100% made in Italy. Tutti i prodotti di marca e di qualità sono una quantità abbastanza importante per una famiglia perché abbiamo voluto creare le condizioni perché tutti, possibilmente anche chi non ha tante risorse economiche possa passare una Pasqua serena. Insomma un segnale di vicinanza ma anche un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà. Questo gesto non è solo un gesto che vuole aiutare fisicamente ma anche un gesto di speranza, un futuro sicuramente migliore.